Buonasera a tutti, la pagina del giovedì dedicata a Pianeta Occhia e Rotelle, canale 96, ben ritrovati da Stefano Ballerini, ben ritrovati da Paolo Caselli che ha contribuito ad impaginarci la puntata, ben ritrovato Enrico Milano che mi segue, fido dalla nostra regia. Allora, due i titoli di questa settimana, con l'ultimo proprio di ieri sera, un grande Edil Fox Grosseto per quello che riguarda la parte degli ultimi match dell'ultimo weekend, ma poi purtroppo nell'anticipo per gli impegni di Coppa, Lodi ci batte il nostro Follonica. Per cui Grosseto rimonta e va e pareggia con la capolista Sanzano e Valdagno di forza, Breganze si ferma in Serie A2, Castiglione no. E allora, andiamo a vedere subito quello che è stato il match di ieri sera, l'amatore Lodi vince l'anticipo della ventiquattresima giornata, per cui è Morgan Antonioni che compierà 21 anni a fine marzo, forte marmino di nascita, un cost to cost, dalla porta di Lodi alla porta di Follonica, sbloccando un match che sembrava indirizzato sul pareggio, un'invenzione totale che è servita ai giallorossi per portare a casa tre punti, mettere un bel punto esclamativo per la lotta e la rincorsa, perlomeno al secondo posto. La decide il giocatore toscano, ma è stato un anticipo, come dicono le note di Fisl.it che ringraziamo, veramente intenso, dove le due difese e i due portieri, fino a quella prudezza, non avevano permesso di far maturare nessun tentativo pericoloso. L'equilibrio è durato praticamente per tutta la gara, inframezzato da un gol ciascuno, al minuto 16, Barbieri portava avanti i suoi, trovato libero sulla sinistra da un assist smarcante dell'ex Fantozzi. Poco dopo, Montingel deviava in rete una pallina vagante dal tiro della lunga distanza del suo compagno, aiutato da un rimbalzo sulla balaustra. Poi, e dunque, andiamo a vedere quello che è il tabellino, Lodi, Follonica, 3 a 1, 1-1, 2-0, la ripresa quando la partita va a decidersi, per cui la classifica da cui se ne vince, poi ovviamente faremo, riannoderemo un attimo di film per andare a vedere quello che era successo nel sabato. Trissino 53, Lodi 44, Sarzana 40, Grosseto 39, questo è il sequel della classifica, prima di proseguire e darvela tutta, però bisogna fare il punto della situazione sull'ultimo turno di sabato scorso, anche la capolista si ferma a Grosseto e di Biancorossi si confermano ancora una volta nei primi posti della classifica, nel catino della pista Mario Parri, riempita in ordine di riposto, il Trissino mette in pista un gran primo tempo, non lasciando ossigeno ai padroni di casa del Grosseto, ribadendo la precisione anche all'inizio del secondo tempo, quando pervenivano al 3 a 0, Mendez, Ipinazzar, Cocco, i tre gol, soffrendo anche per l'infortunio di Gavioli. In 18 secondi, Lady Fox firma un pericoloso 1-2 invece, che rimette in careggiata i Biancorossi, segnano Franchi e Saavedra, poco dopo De Oro firma su rigore il pareggio del 3 a 3, Trissino non si dava per vinto, col contropiede di Malagoli si guadagnava anche un rigore che non falliva nella ribattuta, Saavedra però pochi istanti dopo è lesto in deviazione finale a rimettere tutto sul 4 a 4 un pari d'oro. Il campionato nelle altre sfere è serrato perché nonostante un ottimo pareggio per i ragazzi di Achili, viene superato in classifica da due squadre che erano impegnate come Trissino nelle gare europee di sabato, confermando la buona condizione fisica sia di Lodi che di Sarzana. Entrambe hanno sì faticato per portare a casa tre punti, ma hanno allo stesso tempo confermato la buona condizione fisica e una superiorità alla lunga, vincendo tutte e due nel secondo tempo rispettivamente contro Montebello ed in casa del centro giovane calciatore di Viareggio. Dunque, queste sono le note salienti del campionato di A1, adesso posso andare assolutamente a darvi quindi quella che è la classifica Trissino 53 più 9 sull'Odi 44 ma che ovviamente ha anticipato e dà una gara in più. Poi, Sarzana 40, Grosseto 39 quarto, Follonica 38 fermata dall'Odi, Versilia Forte 36, Bassano 34, Vercelli 32, Valdagno 25, Monza 22, Sandrigo 20, poi Viareggio e Montecchio precalcino, Entrambe le squadre sono neopromosse 12, Montebello 8, la classifica dei marcatori si va a ricomporre con Mendes, Trissino 33, Cocco, Trissino 32, farebbe 65 gol in due, poi Tamborindeghi del Monza in mezzo a 26, arriva un altro del Trissino, Malagoli con altre 22, per cui 65, 75, 85, 87 gol in tre. Davvero super attacco Trissino? Malagodi, Vega, Tataranni e Davide Manini del Follonica con 22, Turner, Forte, Thiel, Sandrigo, Saavedra, Grosseto arrivano a 21 punti. Allora, andiamo a vedere anche quello che dice il campionato di Serie A 2 maschile, continua la corsa del Blue Factor Castiglione della Pescaia che ha piegato nel derby a domicilio Lobby Stol Grosseto per 11 a 6, dove ancora sugli scudi si fa notare Federico Buralli, mister ventirete in sette gare, ben cinque realizzate sulle marmette della pista Parri, ma anche tre reti del diciottenne Guarguaglini. Per cui, questa è la situazione del girone B, è ritornato l'indecco Giovinazzo che vince il decisivo big match contro la Ex, adesso seconda, russolata, terza, Forte, con una gara a solido, un parziale severo di 8 a 3. Il Pumas Viareggio ritorna a terzo insieme al Forte grazie alla vittoria sul Deco Mortella Matera, 6-4, doppiette del diciassettenne Pesa Vento e sedicesimo e sedicenne Carrieri. Complimenti, tre punti anche per Sazzana, 5-4 a Matera col gol partita di Capitano Pistelli, a 90 secondi dal fischio della Sirena finale con la tripletta, nonostante i quattro gol dell'argentino Piozzini. Dunque, andiamo a vedere quelli che sono i risultati totali, la classifica ve l'abbiamo già aggiornata, allora la ventunesima giornata aveva detto Vercelli-Monza 5-5, 3-3, 2-2. Sandrigo-Montecchio-Precalcino, 3-5, 2-1, ma copo volto tutto, 1-4 nella ripresa. Viareggio-Sarzana nel derby, 1-2, 1-1, 0-1. Lodi-Montebello, dunque Lodi fa doppietta, batte prima il Montebello e poi il Follonica. 3-1, 1-1, 2-0. Bassano-Valdagno, 0-2, sconfitta a sorpresa in casa del Bassano, 0-0, 0-2. Poi il bel pareggio, come detto, tra Grosseto e Trissino, finisce con uno scintillante 4-4, 0-2, 4-2. Poi il Follonica, prima di essere sconfitto in casa, nel posticipo, anzi nell'anticipo del 22esimo turno, aveva battuto gli impianti, Versilia Forte, 4-1, 3-0, 1-1. E allora, la classifica ve l'abbiamo dato, la classifica marcatori ragguagliata pure. Andiamo a vedere l'ultima giornata del campionato di Serie A2, maschile girone B, quello che interessa a noi. Follonica, Farmae, Pumas, Ancora, Viareggio, 6-6. Obisto, Grosseto, Castiglione, 6-11. Gambe, Novecio, Salzana, Matera, 5-4. Servizi, Forte dei Marmi, Giovinazzo, 3-8. E poi si dovrà giocare Camaiore, Salerno. La classifica è Castiglione, 19, Giovinazzo, 17, Farmae, Pumas, Ancora e Viareggio, 15, insieme al servizio di Forte dei Marmi, 12 per Camaiore, 10 per Salzana, 7 per Salerno, 6 per Grosseto, 3 per Matera, 2 per Follonica. Andiamo a vedere anche i risultati della giornata numero 6 di Serie B. Roller Grosseto, Focaceria Orlando, Versilia, Forte, 7 a 5, Viareggio, Startit Prato, 6-7. Vincono i Lanieri in trasferta, Rotellistica, Camaiore, Castiglione, 3 a 2. La classifica, Castiglione, ok, che comanda sia la Serie A2 che anche la Serie B, 12. Startit Prato che vincendo lo raggiunge a 12, Centro, Giovinazzo, Calciatore, 9, Rotellistica, Camaiore, 8, Viareggio, 7, Grosseto, 4, Focaceria, Orlando, Forte dei Marmi, 0 punti. E allora, grazie a Enrico Milano che vi ha fatto vedere finora tante partite di tutte quelle che abbiamo potuto scaricare in tempo e a cui seguiranno anche quelle in seconda serata dopo questo appuntamento ormai normale da due anni a questa parte tutti giovedì sera. Chiedo in diretta a Enrico Milano se ha già pronto la scaletta. Cosa seguirà questa trasmissione? Lodi, galera Follonica. Lodi, galera Follonica. Lodi, galera Follonica, che è il posticipo del 22esimo turno. Lodi, che purtroppo batte il nostro Follonica. Allora, dallo studio centrale del canale 96 è tutto. Vi ringrazio. L'appuntamento è per domani con Paolo Caselli, rassegna stampa mattutina in diretta live dalle 10 a mezzogiorno. Andremo a ricordarvi tutti i temi e tutti gli appuntamenti del weekend. Poi lunedì una prima spazzolata di risultati, tanto per aggiornare le classifiche. L'appuntamento collochi come tutti i giovedì alle ore 20. Grazie da Stefano Ballerini e dalla redazione del canale 96. La linea torna alla nostra regia, nonché programmazione. Grazie. Grazie.